Il corso Agile in pratica fornisce un approccio strategico per affrontare l'incertezza del mercato e l'imprevedibilità degli scenari lavorativi. Tra i principali punti di forza, il corso insegna come accelerare il time-to-market mantenendo alta la qualità dei prodotti e servizi, riducendo il rischio di investimenti errati e stimola una mentalità flessibile e adattiva, che permette di reagire rapidamente ai cambiamenti e di cogliere opportunità emergenti. Inoltre, favorisce la capacità di ripianificare in modo continuo, rispondendo prontamente anche ad imprevisti non pianificati, adattandosi alle nuove esigenze del mercato e della tecnologia. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale, nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.